una bella pizza con panna prosciutto e funghi adesso andiamo ad assaggiare insieme a voi fatemi sapere se l'avete mai provata con i funghi adesso andiamo a assaggiare il primo pezzo con voi panna prosciutto e funghi mmm bunissima! è da provare peccino le messa già da perché di solito si fa si chiama pizza la mimosa con i mais progetto cotto e panna invece io ho cambiato io ho messo i funghi e adesso metto stacco questa clip metto un atto clip con una musichina perché mi voglio vedere il film e giustamente quando uno mangia vedi anche la tv quindi per non far succedere che mi blocca il video purtroppo devo fare così però mi vedrete comunque continuando a mangiare grazie 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 grazie